il luce rosselli ecco bader e lui di raddoppio e va con la fondata gianna reino 6 per tirare, Esdrow e Denius resta su Esdrow, panneggia resta e tira a scopo, Kenny Esdrow! ...inventare qualcosa, ora il pick and roll ha un'ottima soluzione con la schiacciata di Smith. ...a rimbalzo, meglio Pellegrino! Roderick a correggere l'errore! ...ma recupera Giovan de Greenval per l'affondata! ...blocco di Sherrod a Berakuzka con la mano sinistra, cerca un passaggio molto difficile per Sherrod. ...altra ricezione complicata, Golder mi approfitta e inchiola una gran schiacciata. ...sbaglia Ferris e prende un tiro e poi Portadese scarica un assist a Croquet. ...sì! ... ...messi in attacco per Roseto con Amoroso che consegna per Robert Fulz sulla difesa di Trey Golden. ...e piccherò all'alto con Sherrod che riceve al limite dell'inflazione di passi. ...e eccola è la schiacciata del 2282-80. ... ... ... ... ... ... ... ...